Creare spazi pubblici dedicati in tanti comuni piemontesi per allattare in tranquillità, cambiare il pannolino ai bebè e far giocare i bimbi più grandi è l'obiettivo del progetto Piemonte Family Friendly. L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale, dalla consulta femminile regionale, dalla consulta delle elette, in collaborazione con l'Associazione Coordinamento Nazionale Vivere Onlus, vuole avvicinare le istituzioni alle esigenze della famiglia, intesa nel senso più ampio del termine, offrendo un ambiente adeguato per la cura del bambino. L'intenzione è quella di sensibilizzare gli enti locali per arrivare all'apertura di 30 punti Piemonte Family Friendly entro il 2018, affinché non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, si possano moltiplicare i luoghi a misura di bambino. Il Consiglio regionale dà intanto il buon esempio con l'inaugurazione, avvenuta nella sua sede di Palazzo Lascaris, del primo punto Piemonte Family Friendly, allestito anche grazie al contributo di consigliere e consiglieri regionali. In qualità di Presidente della consulta delle elette del Piemonte, ho apprezzato e condiviso fin da subito il progetto presentato dalle associazioni piemontesi che fanno capo al coordinamento nazionale Vivere Onlus e anche in base agli atti di indirizzo che sono stati elaborati e votati all'unanimità in Consiglio regionale. Questo è un progetto trasversale che non ha un colore politico e che mette al centro i bambini, le mamme e le famiglie in generale. Uno spazio dedicato dove le mamme possono allattare al seno o le donne che non possono allattare al seno, per le donne che non possono allattare al seno c'è la possibilità anche di usufruire di uno scalda biberon e poi degli spazi che sono dedicati all'igiene, al cambio del pannolino del lattante. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di comuni del territorio regionale affinché anche loro allestiscano e attrezzino spazi idonei a questo scopo perché il buon esempio deve partire dalle istituzioni. Un Piemonte amico delle famiglie e dei bambini e delle mamme. Certamente non pensiamo di risolvere tutti i problemi delle mamme e delle famiglie ma è un segno di civiltà e di attenzione nei loro confronti dando la disponibilità di un ente importante come quello del Consiglio regionale del Piemonte per poter dire a tutte le mamme che qui possono trovare una disponibilità, un'attenzione e una cura per il loro bambino. E quindi certamente un messaggio importante per tutto il Piemonte che speriamo che anche altri enti locali, ai comuni e altre istituzioni possano copiare in modo da poter dare un messaggio molto forte per le donne e per le famiglie. Inauguriamo il Piemonte Family Friendly che è la realizzazione anche di una mozione, di un atto di indirizzo che è stato approvato lo scorso maggio, della quale sono la prima firmataria ma soprattutto perché si richiedeva che fossero gli enti pubblici locali sensibilizzati ad aprire dei punti di sostegno alle famiglie presso i loro locali e si chiedeva di partire proprio dal nostro ente per dare anche questo buon esempio di best practice. Questo credo che sia solito un piccolo passo perché le città possono essere più a misura di famiglia e di bambino ed è molto importante che noi collaboriamo con le associazioni perché le associazioni sono fondamentali, sono associazioni di professionisti e di volontari che mettono a disposizione il loro tempo ma soprattutto si occupano di bambini prematuri. Noi dobbiamo far sì che si possa anche incentivare e sensibilizzare verso il latte donato perché il latte donato aiuta dei bambini prematuri e questo credo che sia un messaggio importante anche perché la nostra regione è un esempio. Abbiamo una banca del latte sul nostro territorio e quindi oltre ad essere non soltanto un progetto che diciamo si ferma all'inaugurazione di un qualcosa di una stanza ma bensì è un messaggio sociale e culturale che dobbiamo estendere per far sì che l'allattamento sia la cosa naturale, una cosa molto importante ma soprattutto che l'allattamento non è finanziato a se stessi ma che può anche aiutare degli altri bambini che ne hanno bisogno e anche le loro famiglie. Qual è il ruolo del coordinamento Vivere in questa iniziativa? Il coordinamento nazionale Vivere è un coordinamento di 45 associazioni dislocate in tutta Italia in cui fanno appunto parte anche le associate locali qui di Torino. La logica è quella a fronte di una raccomandazione sottoscritta il 12 maggio del 2016 sull'importanza dell'allattamento al seno per i bambini nati prematuri è appunto di dare attuazione quindi anche a livello regionale a queste raccomandazioni quindi per noi è estremamente importante vedere che nella regione in oggetto le cose stanno prendendo il giusto verso su un tema così importante quale l'allattamento al seno non solo per i bambini nati a termine ma particolarmente anche per quelli prematuri che c'è un'importanza non solo dal punto di vista proprio della loro salute per il discorso degli anticorpi ma anche quel rapporto proprio umano psicologico che viene recuperato con il proprio figlio.